Musica d'autore, spettacolo e beneficenza. Anche quest'anno l'offerta culturale e filantropica proposta dall'Associazione Culturale World of Color con sede a Policoro ha sintetizzato al meglio quei valori e chiuderà il calendario 2015 con il grande evento in programma dalle ore 20 e 30 al Palaercole di Policoro. Solidarietà e integrazione, insieme costruiremo un mondo a colori. A ricordare l'artista lucano Pino Mango, ad un anno dalla sua prematura scomparsa e che ha lasciato un segno profondo nel panorama artistico italiano e internazionale, sarà il più grande autore italiano di testi e canzoni, Mogol. I fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione con l'ANFAS di una sala di musicoterapia Policoro. Nel corso della serata non mancheranno sorprese e contributi video di grandi artisti italiani che saranno così presenti all'evento e condivideranno il messaggio Insieme costruiamo un mondo a colori.